L'Ettarius presenta viaggio nella quinta dimensione. In questo numero vedrete alcune testimonianze che attestano la validità del suo lavoro. Signora Trenzani, cosa l'ha spinta a rivolgersi al mago L'Ettarius? La disperazione perché avevo la mia azienda che non funzionava e un giorno leggendo su un giornale la pubblicità che faceva il mago L'Ettarius ho voluto provare anch'io. Ho telefonato, gentilmente mi ha fissato un appuntamento e ci siamo poi incontrati. Ho ritrovato di fronte una persona all'altezza di quello che si dice. Mi ha risciolto anche vari problemi oltre a quello attuale e lo ringrazio tuttora. Però oggi come oggi sto veramente bene. La mia azienda ha ricominciato a funzionare. Grazie. Grazie.